benvenuti a tutti quanti voi anche oggi una bella giornata non tanto bella è un po nuvoloso non fa niente l'importante che si sta bene non fa tanto freddo ci sono varie persone che sono venute anche questa brava ragazza è la prima volta che è venuta e lei la conosciamo da tempo lei la prima volta e lui lo conosciamo da tempo lei la prima volta anche e anche questa ragazza qui è la prima volta quindi sono varie persone che sono la prima volta ci abbiamo nupan il nostro bravo nupan che è felice di mangiare e poi c'è maria cassa qua c'è questa brava signora che si chiama maria cassa che è disponibile è sempre presente e poi ci abbiamo juan carlos il nostro juan carlito ringraziamo signore per le varie persone che sono presenti che ci vengono a trovare quotidianamente questo locale di preghiera dove noi ci riuniamo per conoscere le persone ci sono varie persone che hanno trovato lavoro come si vede da queste foto qua come si vede anche da altre foto che sono qui che verranno date al popolo le varie persone che hanno trovato lavoro io adesso le faccio vedere a queste ragazze qui le possono guardare e ogni persona che viene persone che anche vengono la prima volta diciamo benvenuti benvenuti venite a mangiare con noi anche se non abbiamo mai visto e si mangia gratis non non c'è una cifra precisa da dare è ovvio che c'è una donazione c'è questo bicchiere qui dove viene richiesta una donazione da dare che può essere anche un centesimo anche un centesimo puoi dare e noi certo speriamo che persone danno un po più di un centesimo perché la bolletta della luce la cucina è tutta elettrica e siamo è un circa 180 ogni due mesi e quindi adesso c'è il conguaglio da da quattro mesi che non arriva la bolletta c'è aspettiamo e quindi ringraziamo il signore per le varie persone che vengono tra un po ci sarà la condivisione della parola di dio anche verrà fatta una lettura della parola ci sono tre momenti di preghiera non sono più due ma sono tre momenti di preghiera come vediamo dalla scritta di tre momenti di studio biblico tre momenti di domande risposte e due momenti di preghiera con imposizione della mano erano prima due momenti ma adesso sono diventati tre perché il primo è al tavolo e due momenti di preghiera sono al colpito al colpito che è laggiù laggiù è quindi ringraziamo il signore per le varie persone che sono venute adesso tra un po ci sarà la condivisione della parola di dio e grazie a dio